VAR Digital Art by VAR Group nasce all'interno della nostra azienda. Noi ci occupiamo di digital transformation per accompagnare le imprese nel percorso di evoluzione digitale e assieme ad alcuni colleghi con la passione dell'art abbiamo iniziato ormai nel 2017 a portare all'interno della nostra azienda alcune iniziative e collaborazioni con artisti digitali. Da queste prime esperienze abbiamo dato sempre più forza alla nostra iniziativa e VAR Group ha sposato il progetto proprio come elemento di comunicazione all'interno e all'esterno dell'azienda e da un anno abbiamo intrapreso una collaborazione con Davide Sarchioni, curatore e direttore artistico di VAR Digital Art con l'obiettivo di creare un percorso che porti VAR Digital Art a diventare un hub all'interno del mondo dell'arte digitale e creare una sinergia, una contaminazione tra il mondo dell'impresa, dell'arte, del digitale e delle accademie. Adesso abbiamo istituito un progetto veramente importante, il primo premio di arte digitale, il WDA Awards. È il primo premio a livello nazionale istituito da una società, poi da una società privata come siamo noi proprio con l'obiettivo di contribuire a dare sempre più visibilità ai strumenti al mondo dell'arte digitale e agli artisti. Sono stati individuati da un comitato scientifico 12 artisti. Dalla rosa dei 12 artisti ne sono stati selezionati 4 e quei 4 finalisti saranno presenti alla convention e sarà nominato appunto il vincitore. Questo premio consiste nell'acquisto da parte di VAR Group dell'opera dell'artista, dell'opera quindi vincitrice, che sarà inserita all'interno della WDA Collection. Oltre questo l'artista avrà la possibilità quindi di realizzare nel 2024 un progetto all'interno del nostro percorso di VAR Digital Art. Il ruolo delle imprese e per come lo viviamo in VAR Group rispetto all'arte digitale è di un coinvolgimento completo. Nella nostra attività di accompagnare le imprese nel loro processo di evoluzione digitale vogliamo mettere a disposizione degli artisti e quindi degli artisti digitali le nostre esperienze, le nostre competenze sulle tecnologie come il metaverso, come l'intelligenza artificiale, la blockchain che noi utilizziamo per i nostri clienti in progetti di implementazione a livello di imprese. Queste tecnologie, queste competenze le abbiamo inserite in un progetto che è il VDA Factory, un laboratorio di produzione dove le nostre competenze, le nostre esperienze, sono messe a disposizione degli artisti creando una integrazione, una contaminazione tra il mondo dell'impresa e quello degli artisti e del digitale. Per noi è stato un percorso direi naturale, quello di interagire con gli artisti portando e mettendo a disposizione le nostre competenze, le nostre esperienze che utilizziamo tutti i giorni nell'accompagnare le imprese nel processo di evoluzione digitale. I nostri team lavorano quotidianamente con l'utilizzo di tecnologie come metaverso, come blockchain, intelligenza artificiale e questo lo abbiamo inserito in un laboratorio che permette agli artisti di confrontarsi anche con le nostre esperienze, la loro creatività e realizzare quindi dei progetti innovativi che sono alla base del nostro progetto. Impresa e arte sono un connubio perfetto quando sono messi a disposizione in modo aperto, in modo creativo, le rispettive esperienze, competenze e idee. Allora lì si può creare veramente una sinergia che porta a vedere anche mondi nuovi e sconfinati.